Ritrovata la donna 52enne di origine tedesca Silvia Gaczka, residente a Castel San Giorgio, scomparsa il 27 agosto scorso dalla sua abitazione. La donna era uscita la mattina per portare il pranzo al parroco, senza però giungere a destinazione. L'allarme fu lanciato proprio dal sacerdote. Il marito e i figli avevano lanciato un appello per ritrovarla anche tramite la trasmissione Chi l'ha visto. Ad intercettarla è stata la polizia nel comune di Battipaglia. La donna, alla vista degli agenti, ha provato a fuggire, poi è stata identificata e riaffidata all'affetto dei familiari.